Allora, oggi diciamo che non è più sostenibile un lavoro non retribuito. I lavoratori della Giozio scioperano per la mancata retribuzione della mensilità di ottobre e soprattutto per il futuro incerto. Questa propesta parte da molto lontano e sino ad ora nessuna amministrazione regionale, né mai l'ASE, hanno saputo mettere un punto a questa vertenza. Il lavoro che svolgono questi lavoratori sono ritenuti utili e indispensabili perché riguardano l'ambiente, quindi la gestione degli imbiati di depurazione e quant'altro. Ma questo all'istituzione non basta, è soltanto una grande vergogna.